qual è la forza della cultura in questo momento così drammatico per noi in questo momento di emergenza sanitaria i libri se andiamo a vedere il nostro passato i momenti storici uscivano anche durante i periodi di guerra però non aiutavano a difendere le persone dagli orrori della guerra in questo in questo frangente che è una guerra contro un terribile virus che ci ha attaccato possiamo solo sperare che gli italiani che non sono dei grandi lettori dovendo stare in casa e avendo meno interessi attività fuori di casa anzi quasi nulli si appassionino alla lettura perché la lettura può per un breve periodo per un breve spazio della nostra giornata aiutarci non solo consolarci ma anche a farci capire tante cose consolarci direi di no perché il periodo è veramente drammatico c'è gente che soffre e ci stiamo addentrando in un tunnel da cui non sappiamo quando usciremo di una grave crisi economica però se gli italiani leggono aiutano anche la cultura ad uscire dalla crisi economica grazie a tutti Grazie a tutti